Un altro duro colpo inflitto dalle forze dell'ordine al caporalato e allo sfruttamento nelle campagne del Nisseno. Sono 16 le persone indagate e gli operai reclutati a Caltanissetta erano trasportati a bordo di furgoni in pessime condizioni di sicurezza nelle campagne dei territori del Nisseno di Agrigento. La Procura della Repubblica di Caltanissetta, concluse le indagini preliminari, ha esercitato così l'azione penale nei confronti di 16 persone imputate per l'attività di intermediazione illecita allo sfruttamento lavorativo e all'impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento. Le indagini, iniziate alla fine del 2020, hanno visto impegnati per un lungo arco temporale la squadra mobile della Polizia di Stato e il nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri. Al termine delle attività è stato possibile raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di alcuni imprenditori agricoli o proprietari terrieri del territorio Nisseno e di quello grigentino, operanti a Delia, Sommatino, Palma di Monteghiaro e Ravanusa, nonché quello di intermediazione illecita finalizzato al reclutamento di manodopera a basso costo da impiegare in condizioni di sfruttamento. Il tutto approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, in prevalenza stranieri, derivante dalle precarie condizioni socioeconomiche in cui gli stessi versavano. Le attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche degli indagati hanno consentito di appurare che gli intermediari intrattenevano frequenti contatti con gli imprenditori e proprietari terrieri per concordare il numero di lavoratori di cui necessitavano e il compenso da corrispondere loro. I caporali poi trattenevano una parte del salario, già evidentemente inferiore al salario minimo fissato dai contratti collettivi di categoria o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, da loro stessi poi consegnato ai braccianti. È stata accertata inoltre la sussistenza degli altri indici di sfruttamento contemplati dalla norma penale in materia di orario di lavoro, riposi, ferie e malattie. I lavoratori inoltre non sarebbero mai stati sottoposti a visite mediche obbligatorie, non avrebbero mai partecipato a corsi di formazione per il maneggio di sostanze nocive come fertilizzanti o antiparassitari, né avrebbero mai ricevuto dispositivi di protezione individuale. Gli operai domiciliati prevalentemente a Caltanissetta sarebbero stati reclutati in centro città per poi essere trasportati a bordo di furgoni in pessime condizioni di sicurezza nelle campagne dei soggetti richiedenti.